Allora, sapete Pet Simulator X, quel gioco molto bello dove ci sono i pet? Ecco, sapete? Poi in Mordermistery 2, quello lì, il gioco dove c'è il coltello che fa zack zack, ecco, 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 hanno fatto un gioco che li mette insieme, a quanto pare non è bellissimo, però noi ci giochiamo, noi ci giochiamo, ci ho già giocato un pochino, è bello, conviene farci un video e quindi ci faccio un video e tu non ci puoi fare niente a riguardo. Ok, eccoci qua in game e come avevo detto ci sono i pet, io ce l'ho già un pochino qua perché ci ho già giocato un po', e adesso vi faccio vedere perché è bello, è molto più bello degli altri giochi, allora, intanto, uh, porta qua, ok, allora, guarda che bello, guarda che bello, allora, perché questo gioco è bello? Perché puoi farmare i soldi mentre cerchi di ammazzare il Mordar, allora, sentiamo un pochino se sentiamo il Mordar, è lui, è lui il Bacon, è il Bacon, no, puoi entrare qui, uh, anche voi i soldi, anche voi i soldi. Aiuto, no, 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 lasciami stare, no, 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 perché mi guardi male? Ok, mi fa paura un bel posto, Bacon, oh, sono sparati altri soldi, adesso andiamoci, no, no, lasciami stare, lasciami stare, uh, guarda qua, uh, c'è un cancazzone, uh, dov'è il Mordar? Ok, quindi, sì, per chi non l'avesse capito, è perché, perché sei, è come Mordar Mystery perché ci sono le, le, le pistole e tutto il resto, ed è come Pai Simulator perché prendi i pet e ci scavi i soldi per aprire le casse. E la cosa bella è che a differenza di Mordar Mystery dovevi, devi farmare per 827 ore per aprire una singola cassa, qua basta che farmi poco, infatti, già ne posso aprire un'altra. No, no, lasciami stare, no, no, stai indietro, stai indietro, ti sparo, evviva, ho trovato una cassa, mua, mi ha dato un bacino, anche lui, no, no, ma che, no, no, allora, io non ho tirato, non ho visto una singola persona per tutta la partita che veniva ammazzato, ovviamente il primo sono io. Sì, ragazzi, ma questo è Mordar Mystery, è divertente, adesso apriamo una cassa, vediamo, attenzione, attenzione, apriamo un pet, attenzione, ah, ecco, ovviamente un pet base. Sì, l'ARNG, il fatto che c'è, come su Pazzi Moritor X, dove devi aprire 800 casse per aprire una singola cosa, non cambia. Guarda che non li ammazza gli altri, ah, non scherzavo, ecco. Wow, una partita innocente, ma che peccato, volevo essere proprio Mordar. Ciao, ciao tizio. No, 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 non mi fido più dei bacon. Sì, un'altra cosa che puoi fare è farmare mentre ti nascondi, però non ho intenzione di farlo, perché... No, ho sentito qualcuno che moriva, lasciami stare. Ho sentito delle coltellate che venivano fatte. Non mi devi lasciare stare tu. No, no, tu mi devi lasciare stare. Oh, guarda quanti soldi ha fatto la mia cassa, che bello. Posso quasi già aprire due casse. No, 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 dovete lasciarmi stare voi. Non so dove andare, non so dove andare. Oh, qualcun altro è morto. Non so se l'ho sentito, aspetta che calzo un pochino il volume. No, no, mi devi lasciare. E lui, e lui per forza, e lui per forza. No, 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 scherzavo. No, ti prego. Non è lui per davvero. Oh, è morto. Evviva, l'ha ammazzato. Wow, complimenti tizio. Scusa se avevo dubitato di te. Evviva, siamo anche livello 9. Allora, apriamo due cassette. Oh, questa è la prima, questa è la prima. Attenzione, attenzione, attenzione. Wow. Oh, mi ha tolto un base. Cosa siamo? 21% Hello, bozo. No, 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 ti prego. No, come faccio a fuggire? Non posso fuggire. Sì, comunque, questo gioco, se ci volete giocare, il link è in descrizione. Quindi, yay. Eccoci qua, un'altra volta. Facciamo su. Oh! Ok, ok. Ci piace, ci piace, ci piace, ci piace questo, ci piace questo fattore. Ok. Allora, allora, allora. Dove sono le prime persone? C'è qualcuno sotto la macchina, per caso? Posso andare sotto la macchina? Chi è che stanno già sparando? Sono io, l'murder. Vi chiedete ammazzare subito lo sceriffo? Non avete visto nulla voi? Ah, era lui lo sceriffo. Ok, 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 ok. Ragazzi, ho visto il mordar. Venite, venite. Ciao, tizio. Non l'ho preso! Mori, mori, mori. Mi sa che c'è sicuramente il coso, l'altro. No? Allora, intanto, ragazzi, mentre voi cercate la pistola, io prendo i miei soldini, che tanto mi spettano. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. C'è la pistola? No, non ce l'ha. Ho vinto! Ho vinto! Evviva! Oh! Yey, un'altro base! Scherzo, facciamo in tempo aprire un'altra, penso. Spero. Ok, un'altra cassa, un'altra cassa, un'altra cassa, un'altra cassa, vediamo. Un'altra base. Sì, la chance di trovare i coltari rari è peggio di murder mystery, probabilmente non apri più casse, quindi è anche più divertente. Allora, vediamo un pochino chi è che sta ammazzando. Non è qui, per fortuna. È tizio, è tizio, è tizio, mi sa. Non me lo portate qui, vi prego. Ah, è morto! No, aspetta, aspetta, facci tempo per prendere le cose. Non ho fatto il tempo a prendere i soldi, no? I soldi che avevo lasciato laggiù. Cassettina, 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 oh! Un'altra base. Faccio da prendere un'altra, almeno. Io spacco tutto se non trovo un'altra cosa. Sì, ho trovato un raro, che bello! No! Chi è che è morto subito? Oh! No, 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 mi spalla, eh, ti prego, non sono io! Non è lui, è lui, è lui! Era quel tizio lì, per forza. Non sembra, in realtà, che sta ammazzando. Stava aspettando che siamo tutti qua in modo di ucciderci. Esatto, lo sapevo, lo sapevo, l'avevo detto. Sherry, fammazzalo! Eccolo. Ce la fa? Oh, ok, no, non ce l'ha fatta. No! Ma ha visto, ma ha visto, ma ha visto, ma ha visto! Ma ha visto per forza! Ma perché lo porti da me? Ok, ok, ok. Se lo riesco a dribblare, se lo riesco a dribblare... No! Non ce la posso fare, no, è troppo distante. Troppo spazio, devo camminare. Devo camminare troppo! Guardalo, guardalo, tutto contento di campera sulla pistola. Ci abbiamo... No, niente, è rimasto solo un altro tizio. Ma poi, guarda, come si chiama? Evviva la cassina! No, no, no! Ogni giorno che passa, la voglia di continuare a vivere diminuisce sempre di più. Apriamo una cassina! Dai, dammi il raro, dammi il raro, dammi il raro! No, ho trovato un base. Yey, complimenti! Proviamo a fondere i miei coltelli d'acqua. No, i miei coltelli di legno per vedere se riesco a affonderli e trovarne uno bello. Abbiamo il 41%. Yey! Abbiamo fuso i miei coltelli di legno per dare un coltello da 15. Ok. Ok, stavolta sono sempre innocente. Vediamo un pochino se ho... Sento qualcuno... Sento coltelli che vengono annunciati, mi nascondo. Mi nascondo finché faccio questi soldi. Mi sembra che qua non si stanno molto... No, no, no! Eccolo, eccolo, eccolo! Oh, stanno anche sparando? Fammi avvicinare, fammi avvicinare. Voglio vedere tutta... Oh, attenzione! Oh, ce l'ho fatta! Oddio, ma è bravissima! Ok, facciamo un altro paio di partite e poi chiudiamo. No, se riesco ad essere un ruolo importante prima che finisce. Ok, ok, va bene, va bene, va bene. Allora, 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 adesso dobbiamo giocare bene, eh? Perché l'ultima volta che sono stato sceriffo non è andata molto bene. No, no, ma che... No, no! Ovviamente essere il protettore della società non mi impedirà da diventare ricco. Quanti siamo rimasti nel server? Siamo ancora in tantissimi. Dove so tutti? Hanno trovato una cassa leggendaria super mega valorosa? Sì, a quanto pare. Qua qualcuno tira fuori in coltello e ammazza tutti, eh? No! Oh, sono fortissimo! Beh, beh, ogni tanto direi che può anche andare bene. Ok, avremo un paio di cassine, sì. Giustamente, giustamente. E va bene, va bene, non mi posso lamentare. Ok, ultima partita. Sono innocente, va bene. Non mi stanno droppando soldi? Ah, ok, no, perché l'avevo tolti. Io di te non mi fido per niente. No, no, lasciami stare, ti prego! Oh, ok, non è lei. Sento qualcun altro che usa il coltellino. Ti potresti lasciarmi stare? Lo so che non sei tu. Adesso dirà fuori la pistola e me... No! È lei! Ammazzala, ammazzala, ammazzala. Non puoi ammazzare a me, ti prego. L'ammazzata, adesso torna. Sono troppo forte. Sono troppo forte! Ok, non sa che sono quassù, lo sa. Come puoi saperlo? Momenti di terrore. Sono fortissimo! Sì! Cerchiamo di trovare un pet raro. Troviamo un pet raro? Troviamo un pet raro per finire il video? Troviamo un pet raro per finire il video? No. Va bene, amici. Il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Spero che vi siate divertiti a scoprire questo gioco. Quanto mi sono divertito io. E il gioco se ci volete giocare in descrizione. Entrate nel sabato di Discord. Fate tutte le roba che dovete fare. Perché lo sapete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!